E' polemica non solo politica, però l'ordinanza del sindaco di Pisa, Michele Conti, in vigore dal 7 al 17 maggio, che nei giorni festivi e prefestivi consente l'accesso alle spiagge del litorale pisano per attività motoria e fisica solo ai residenti della città della Torre Pendente, escludendo così anche i confinanti livornesi. Se l'è presa è molto il primo cittadino labronico, Luca Salvetti, che ha polemizzato con il collega, ma se la sono presa anche gli operatori turistici della zona. I livornesi sono l'80% dei nostri clienti, dicono. Spero che sia un provvedimento destinato ad essere modificato, che il 18 maggio venga oltrepassato da altre disposizioni. Noi siamo tutti qui a lavorare per la manutenzione, per riprogettare la spiaggia. Se rimanesse il no ai livornesi non avrebbe senso neppure riaprire. Non troviamo giusto, dicono alla Nazione. Mettere limitazioni negli spostamenti verso il mare all'interno della Toscana non è un problema che riguarda solo i livornesi, tra i quali abbiamo molti clienti da una vita, ma ci sono famiglie che vengono da Firenze, che hanno qui la seconda casa, che hanno trascorso i giorni di quarantena senza problemi. Perché impedire loro l'accesso alla spiaggia?